buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video innanzitutto volevo chiedervi come state come state vivendo questo periodo di quarantena scrivetemelo nei commenti così giusto per creare un po' di interazione e per tenerci compagnia vicenda oggi sono qui in questo video a presentarvi un nuovo form che abbiamo ideato e pensato per voi faremo uscire una volta a settimana un video dove andremo ad aggiornarvi su quelle che sono state secondo noi le uscite più interessanti sul mondo youtube della settimana non faremo una classifica di ciò che ci è piaciuto di più o ciò che ci è piaciuto di meno semplicemente andremo a consigliarvi secondo il nostro modesto parere quali sono i video più interessanti da guardare della settimana vi consiglieremo 5 video cercando di variare il più possibile negli argomenti un giorno prenderemo non so un video di scienza l'altro un video di finanza l'altro un video di sport e così via si sa youtube è una piattaforma vastissima ed è così che voglio darvi una mano segnalandovi video da non perdere e veniamo al primo video della settimana fate molta attenzione a quello che vi sto per dire ho scelto questo video dal titolo coronavirus tutte le risposte per tre motivi il primo motivo è perché secondo me il linguaggio della persona che parla in questo video è molto semplice diretto e vi spiega tutte le informazioni vi dà tutte le informazioni necessarie per farvi capire quello che potete e quello che non potete fare in questo periodo di quarantena secondo motivo per cui ho scelto il video è molto semplice in questo video l'avvocato nello specifico che sta parlando vi va ad elencare quelle che sono le fake news e le bufale uscite in questi giorni quindi vi dice esattamente facendovi anche degli esempi molto semplici quello che potete e quello che non potete fare il secondo video da noi selezionato è uscito martedì se non sbaglio ed è del celebre alberto in arte nasca per questo video dal titolo molto interessante non voglio svelarmi niente ma perché vederlo uno tratta sempre del coronavirus e penso sia utile per aperci gli occhi e vedere le cose magari con un occhio differente secondo motivo dico bravo nasca ci è piaciuta molto la tua interpretazione del tema lo abbiamo trovato molto interessante perché è bello da vedere e è bello vedere persone che parlano esulando dal proprio campo di competenza nasca al solitamente parla di motori qua è stato molto interessante vedere il suo pensiero e vedere quello che lui pensa riguardo a questa situazione e come affronta il problema sapete quanto guadagna uno youtuber con gli unboxing ve lo racconta riccardo zanetti nel suo ultimo video consigliato perché uno c'è sempre da imparare dai video del buon riccardo sia per i termi trattati sia per i contenuti due questo video vi spiega come si possa trarre profitto da una cosa così semplice e tra virgolette banale come l'unboxing quanto lui vi investe e quanti profitti ne trae quarto video veramente consigliatissimo anche per chi non lo sapesse e non se ne intende è questo il peggior giorno dal 1987 di marco casario dovete sapere amici che questa settimana è stata una settimana molto speciale e molto importante per il mondo della borsa della finanza vi sono successi degli eventi che non succedevano appunto dal 1987 andate a vedere andate a scoprire cosa è successo e informatevi ultimo video consigliato da noi fresco fresco di giornata dal titolo crollo bitcoin e mercati il punto della situazione di tiziano tridico abbiamo scelto questi due video che trattano praticamente dello stesso argomento per rendervi partecipi di quello che sta cambiando e di quello che sta succedendo nella borsa e nella finanza mondiale purtroppo le conseguenze a tutta questa situazione ci sono state e dobbiamo essere informati su quello che sta capitando io ragazzi vi ringrazio spero che questo video vi sia piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale ci vediamo nel prossimo video ciao